E' molto importante rimanere attivi tra i canali, spiego perché e dopo vi mostrerò le prove. Hai subito l'annullamento dell'iscrizione dal tuo canale YouTube? Hai perso decine, centinaia o migliaia di iscritti a YouTube sul tuo canale e non sai perché è successo? In questo articolo spiegheremo perché YouTube elimina parte degli abbonati sui canali. Cancellazione degli abbonati YouTube Se il numero dei tuoi iscritti sul tuo canale YouTube è diminuito drasticamente, devi sapere tre cose. Non è solo un tuo problema, ma quello di tutti gli YouTuber in Italia e nel mondo. Il problema è facilmente risolto. Queste cancellazioni e perdite dei membri avvengono frequentemente, ma di solito mesi o addirittura anni di distanza. Il numero di sottoscrittori cambia o diminuisce. 1. It cancella periodicamente gli abbonamenti di persone che considera spam o che sono inattivi, quindi è bene essere attivi tra i canali. Grazie per l'attenzione e buona giornata. 2. It is very important to stay active between the channels. I explain why and after I show you the evidence. 3. Have you unsubscribed from your YouTube channel? 4. Have you lost tens, hundreds or thousands of YouTube subscribers on your channel and don't know why it happened? 5. In this article we will explain why YouTube deletes part of subscribers on channels. Deleting YouTube subscribers if the number of your subscribers on your YouTube channel has dropped dramatically, you need to know three things. It is not only your problem, but that of all YouTubers in Italy and around the world. The problem is easily solved. These member cancellations and losses occur frequently, but usually months or even years apart. The number of subscribers changes or decreases, 1. It periodically deletes subscriptions of people who consider spam or who are inactive, so it is good to be active between channels. But that's not probably the case because this was a problem, but usually Wijong Carrad their both of them The minimum or wall are causing spam, is that free of, for the objective совершенно or one of us have become spam, olurふ The minimum of these details is where weir are, and when we first create videos, winter on channels. Which I'mnor, crev supply that you can convince. When Thorac SEMony came in a ب .. Grazie a tutti